mi ha perduto i miei cari guarda l'orgallo che stanno a fare svegli raga veloci veloci tutti svegli per giocare con il sueno con il trattorino raga no non è vero di solito non registra a quest'orario ultimamente non avevo registrato a quest'orario però però non dico nada andiamo veloci 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 prendi l'albero sui ok di qua drifta sui drifta drifta no no chi è che si infila neapolitan boy aspettate andiamo fate passare per paure oh bravo sui che deve essere spawnato chi è stato sui levatevi ok ok fino a qua ci siamo raga meno male proseguiamo tranquillamente ok comunque credo che era circa un anno che non giocavo un parkourito col trattore raga credo di si ce la facciamo si veloce sui metto un po' d'ansia veloce 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 sui dobbiamo fare leggermente attenzione qui speriamo che c'è un check il prima possibile raga quanto vorrei del equilibrio no no scusami sui scusa scusa casco io andiamo tranquilli ok aiuto facciamo attenzione oh mio dio raga quando finisce questo equilibrio c'è oh no no dove mi caschi sui poveretto raga no che casco io neapolitan boy è per il mero si si raga non finisce più che va così veloce con quel trattorino rosa aspettate non so nemmeno io come ho detto trattorino però capitemi stiamo facendo un equilibrio con il trattorino alle 3 di notte e siamo pure in terza posizione no in seconda scusa andiamo vieni qua napolitan boy il check ancora non l'abbiamo preso però dobbiamo fare veramente attenzione che colorito c'ha tipo un celeste si credo di si andiamo quanto è lungo questo parkour spero che non sia finito ok checkpoint preso possiamo proseguire tranquillamente non mi casca eh ok aiuto si r1 r1 vai sui noi ce la facciamo r1 no aspettate facciamo così ok no dove si è cascato ora facciamo attenzione pure noi eh tagliamo ora perfetto così mamma mia pericoloso comunque eh trattorino veramente pericoloso no ci conviene r1 r1 andiamo no aspettate no raga qui è diversa la situation ok 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 ci siamo oh piano piano casco pure veramente oh lei proseguiamo un'altra parte così no qua qua non ci vorrei uno eh ce la fa ce la fa l'avevo visto ok piano 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 l'ultima cosa che voglio è cascare di sotto qua eh ok ok ci siamo gli altri ci sono pure no credo che sia cascato tat poveretto andiamo più veloce che possiamo oh no non stavo a scherzare ok tagliamo qui perfetto così stiamo andando belli rapidi qua eh piano piano non stiamo andando ok rapido 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 eh qui siamo entrati male come vedete però meno male che non siamo cascati ok e qui c'è un bel check raga prendiamo questo bel check poi zitti che forse faccio in tempo no 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 non faccio in tempo raga stavo a scherzare comunque ok gli altri stanno là il parkurito con il trattorino è carino si può no raga dobbiamo attendere quanti ne ha messi pure le frecce dobbiamo fare eh sì credo che possiamo andare no dobbiamo attendere ogni segnale raga che disgrazia no non ce la faremo mai sì 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 aspettate questo è messo in modo diverso sì e pure qui raga forse ci abbiamo fortuna che appena andiamo qua come vedete possiamo passare wow freccia saliamo su oh come siamo entrati spediti ce la fa veloce no r1 r1 sì con r1 funziona però più di una volta va premuto vediamo oh che boost che boost ok e fino a qua ci siamo 5 minuti di parkurito soli 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 ce la fa ah ok ok non bisogna saltare sono frecce leggermente strane oh aiuto che casco veramente al massimo al massimo tanto non va così veloce questo trattore ok oh ci siamo belli cosa abbiamo ora vediamo comunque ho visto una mica rampa di balli di fieno come finale ok si può andare al massimo sì 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 però è un po' rischioso come vedete un po' in penna però eh dai veloce veloce trattorino più veloce che poi wallride se non mi sbaglio ho visto wallride sì sì c'è anche un wallride da fare che spettacolo oh le manca ancora un pochino quando finisce sto c'è stavo a scherzando ok però seguiamo raga è un parpolito ridassante che dobbiamo fare niente cambiamo visuale ok poi dobbiamo andare qua chi è che sta arrivando copra guardalo quanto pure ok e qui dobbiamo girare andiamo qui c'è un bel checkpoint gira 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 che cosa abbiamo ah quelli che si alzano e si abbassano raga possiamo andare siamo fortunati qui no 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 qui ci dobbiamo fermare otteniamo rapido 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 ok eh no raga questi addirittura sono quasi sincronizzati quindi non ce la facciamo a farli tutti insieme no ci dobbiamo fermare raga per forza ok andiamo ed eccolo qua molto bel check qua c'è una strada ondulata si si oh raga non diamo più veloci oh qui sta prendendo un po' di boost eh si si freniamo vediamo se viene un mini brake boost no raga non lascia la sgommata niente niente da fare disattiviamo rockstar editor e adesso c'è da fare wallride vediamo un po' se ce la facciamo credo di si perché un wallride è veramente tranquillo eh e quanto manca a fine gara è quasi finita eh si oh turbo turbo subito guardi ok andiamo no raga wallride è veramente facile tranquillissimo però io flipperei e mettere pure dritto il trattorino mamma mia raga carino questo mini flip col trattorino eh si si e qua pure bisogna saltare se non ha messo nessun freno proviamo a fare un front flip ok ci proviamo ci proviamo andiamo ah non c'è il turbo super si si no 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 è il turbo extra scusate c'è il freno no raga sto in salta sai che sta qui la mica rampa eccola qui la mica rampa di balle di fiemi andiamo raga ci andiamo a prendere questa mini prima posizione mini perché siamo in sette raga e poi è tardi non è orario di fare parkour andiamo andiamo bella questa mini front flip e olè comunque sia se vi è piaciuta questa gara col trattore di tazmaniacs lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale passate al mio sono il canale big pork e noi ci becchiamo al prossimo video bello iscrivetevi al canale